Inaugurato ufficialmente il Natale a Pordenone, con l'accensione dell'albero in piazza 20 Settembre, preceduta dal coro dei bambini. Aperte al pubblico anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio e le casette in piazza. Alle nostre spalle ci sono i bambini che cantano le canzoni di Natale. Questo ispira molta fiducia e la speranza che questo Natale ci accompagni fuori dal tunnel del Covid e si possa tornare alla tanta agognata normalità. Il Comune ha cercato di realizzare moltissimi eventi, tante iniziative, perché ritiene che la città non sia solamente un agglomerato di uffici e di case, ma sia anche un luogo da vivere, un luogo delle relazioni, un luogo della comunità e quale occasione migliore del Natale per poterlo esprimere pienamente. Grazie alle tantissime associazioni, gli esponso che ci hanno aiutato nel restire questo Natale, con la speranza che la prossima volta, accanto al Santo Natale, al senso spirituale, allo stare insieme, possa essere anche un'occasione per rilanciare l'immagine della città. Noi ce la metteremo tutta. Più di 200 appuntamenti coloreranno le tre piazze centrali di Pordenone, 20 settembre, della Motta e Risorgimento, le vie del centro e i quartieri, le chiese, le biblioteche, i teatri, i musei e i locali della città. È un Natale in sicurezza, però non per questo non è un Natale ricco, anzi è un Natale ricco di eventi per tutti i giovani, i bambini, i adulti, i anziani, i ragazzi, i famiglie, ed è un Natale anche ricco di luci, a cui abbiamo prestato particolarmente attenzione quest'anno, con un tocco artistico per vestire al meglio Pordenone. Ed è anche un evento diffuso, gli eventi non sono solo in piazza 20 settembre come al solito, ma sono anche in piazza Risorgimento, piazza della Motta, in biblioteca civica, lungo i corsi. L'invito è, pur in sicurezza, a frequentare tutti i luoghi, tutti gli eventi del Natale.